Il derby di Atra Civitella Color Max Acqua e Saponi Unigross, ingresso libero di sabato 5, si giocherà al Palla Santa Filomena di Chieti alle 18 e non alle 18.30 diretta a Sport Italia. Intanto domani a Pescara inizierà la tre giorni di Coppa Italia Regione Abruzzo, preliminari tra i Palla Sport di Papa Giovanni Paolo II e Palla Rigopiano nei primi due giorni, compresi i settori Under 15 e 17, mentre domenica 6 tutto concentrato al Palla Rigopiano, alle 9.30 il Futsal Day, alle 14 ci sarà spazio per la quarta categoria, ragazzi disabili tra Accademia Biancazzurra e Parco Deriseis. A seguire si assegnerà la Coppa di C2, alle 18 la Coppa di C femminile e alle 20 di C1 maschile, ingresso libero ma al tempo permettendo per ogni evento una magnifica carmestica al C5, tutto abruzzese, servizi che andranno in onda martedì 8 nel corso del Calcio a 5 Stelle che riprenderà regolarmente le sue trasmissioni.